Io sono Claudia Colciago e sono qui oggi con il progetto Axurge. Axurge è la nuovissima web platform per gli specialisti vascolari che combina varie tecniche matematiche, dall'imaging alla segmentazione delle immagini, alle analisi statistiche, alle simulazioni numeriche, per offrire agli specialisti vascolari tutta la tipologia di analisi che desiderano per il trattamento degli aneurismi della orta addominale.